Anche la fontana è diventato un gioco per bambini nei giardini di Natale di quest'anno. Grazie ai volontari di Auser, amici della fontana e guardie ecologiche volontari, da venerdì scorso la fontana monumentale, con il suo nuovo allestimento realizzato da Vittorio Vivai, ha iniziato ad attrarre bambini che si sfidano con in mano una canna da pesca. È una delle tante attività ideate quest'anno per i giardini natalisti che hanno proprio nel gioco il filo conduttore. Accanto alla fontana, poi nella casetta di Babbo Natale, sotto l'albero, oltre alle letterine, è possibile lasciare giochi, libri, vestiti e prodotti per l'infanzia, per le famiglie in difficoltà. Praticamente c'è delle monetine, la pesca è al tesoro, ci sono delle monetine da pescare, dei pesciolini e delle paperelle. Diciamo che i bambini si stanno divertendo molto, anzi, diciamo che abbiamo avuto anche alcuni elogi e degli apprezzamenti per quello che è stato fatto. Il tema dovrebbe essere a livello di giardino, però lavorando attorno a un monumento è molto complicato fare un giardino senza aver rispetto del monumento, quindi l'idea era di un allestimento molto semplice. E per abbinare il tema del gioco, dove ho dell'acqua, la cosa più semplice è moltiplicare, usare il tema dell'acqua, quindi avvicinare anche l'associazione, dopo in un secondo tempo proprio a seguire la cosa, l'associazione della fontana. E l'idea è quella di portare l'acqua, portare i bambini, portare il gioco, il gioco dell'acqua e la pesca. Diamo il gel appena arrivano nelle mani dei bambini, più a man mano prima di consegnare la canna la igienizziamo. Sta piovendo però vediamo che i bambini continuano a giocare, l'attività che piace. Perché sono attratti più dal gioco che il disturbo della pioggia. La fontana sappiamo ormai è chiusa da un po' di tempo per evitare danni vari, però è un modo diverso per continuare a viverla. Per viverla ugualmente anche se non è funzionale, però diciamo che è per mantenerla, che non si rovini.